In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it, prima di entrare nel dettaglio delle previsioni meteo che caratterizzeranno questo fine settimana, puoi aggiornare Giuseppe e i telespettatori di Cilento Channel sulle condizioni attuali del tempo? Il campo di alta pressione che in questi ultimi giorni ha determinato condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato sull'intera nostra regione sta per lasciarci. Nelle prossime ore subirà un'espansione verso nord fino a raggiungere la Scandinavia, favorendo così la discesa di aria molto fredda di origine artica verso il Mediterraneo centro-orientale. Pertanto la nostra regione sarà interessata dalla prima eruzione di aria fredda di questo inverno, un'ondata di freddo di breve durata anche se a tratti si rileverà piuttosto intensa. Non sarà accompagnata da precipitazioni di rilievo poiché la depressione avrà una traiettoria molto orientale rispetto alla nostra regione, interessando principalmente i Balcani e la per l'isola ellenica. Tuttavia deboli nevicate interesseranno le aree esposte ad est, in modo particolare il Sannio e l'Ispinia. Come saranno invece le condizioni del tempo per sabato 28 e domenica 29 dicembre? Per domani, sabato 28 dicembre, avremo cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, dove, specie sul settore orientale, ci sarà occasione per rovesci sparsi, con deboli nevicate a quote di alta collina. Dalla serata il limite della quota neve subirà un'ulteriore diminuzione, portandosi fin sui 300-400 metri. Durante la notte qualche fiocco isolato potrebbe raggiungere anche le colline del versante tirrenico del salernitano. Temperature insensibili diminuzione, fino a 6-7 gradi centigradi in meno rispetto ai valori attuali. Venti da moderati a forti da nord-est con raffiche di burrasca sulle creste dell'Appennino. Mare poco mosso sotto costa, mosso o molto mosso a largo. Per domenica 29 condizioni di nuvolosità variabile con un maggior soleggiamento in prossimità della costa. Molte nubi invece si addosseranno sul versante orientale dell'Appennino, dove saranno possibili deboli nevicate a quote molto basse, fiocchi che, spinti dal forte vento, potrebbero raggiungere sporadicamente anche il versante tirrenico. Temperature stazionarie con valori massimi di qualche grado al di sopra dello zero nelle aree interne e fino a 7-8 gradi centigradi lungo la costa. Gelate nella notte successiva nelle aree interne al di sopra dei 500-600 metri. Venti forti da nord-est con raffiche di burrasca forte in Appennino. Mare molto mosso o agitato a largo. Poco mosso sotto costa. Puoi aggiornare anche i nostri telespettatori sulla tendenza che caratterizzerà invece l'inizio della prossima settimana? A partire da lunedì 30 le correnti fredde tenderanno ad attenuarsi, anche se la prima parte della giornata sarà caratterizzata da una sostenuta ventilazione. Vento che entro la serata diminuirà sensibilmente di intensità. Seguirà una fase di tempo stabile che ci accompagnerà almeno fino a giovedì 2 gennaio, con temperature in ripresa ma relativamente ai valori massimi del giorno, poiché durante la notte e al primo mattino estese brinate interesseranno tutte le vallate e pianure interne. Per maggiori dettagli, come sempre, invito i telespettatori e consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteoset.it.